Siamo Gianni Cagatto ed Emanuele Riccomi della scorsa edizione del corso per curatori della Fondazione San Direttore Re Baudengo e per quest'anno abbiamo curato la sezione Young Talents della Ford Voller Fair di Milano con la mostra Developing Cities che propone una selezione di sette artisti emergenti che hanno indagato il tema della città contemporanea, e delle altre sformazioni che le interessano in relazione alla società e ai comportamenti della società all'interno del tessuto urbano. Aiuto!